Musica Sicurezza in mare, drenaggio e isola ecologica sono stati gli obiettivi per i quali abbiamo lavorato le parole del tenente di Vascello Stefania Battista che ha passato le consegne del comando della Capitaneria di Porto di Fano a Maria Giovanna Trombetta Sicità, decise azioni per equilibrare la portata degli invasi Aguzzi al lavoro per un nuovo potabilizzatore fuori Pesaro per risolvere il problema della crisi idrica una volta per tutte Dopo Renzi anche Bonaccini nelle Marche, ieri l'europarlamentare ha partecipato alla festa dell'unità di Pesaro e Vallefoglia L'Unione dei Comuni Pian del Bruscolo presenta il progetto La Battaglia di Pozzo Alto, quota 204 L'iniziativa nasce per commemorare e riscoprire la linea gotica Fano sarà ancora una volta una location per un nuovo film che nel fine settimana sarà girato dall'attore e regista Emanuele Giorgi Il fanese divo della TV in Francia Benvenuti a Occhio alla Notizia, il telegiornale di Fano TV Passaggio di consegna questa mattina all'ufficio circondariale marittimo di Fano Maria Giovanna Trombetta, pugliese di 32 anni e la nuova comandante subentra a Stefania Battista Il servizio di apertura è stato curato da Massimo Foghetti La cerimonia si è svolta nel prato della Darsena Borghese Alla presenza del comandante della Capitaneria di Porto di Pesaro Capitano di Fregata Nicola Gaudino Del sindaco Luca Serfilippi Di altre autorità civili e militari E soprattutto dell'equipaggio che lavora per la tutela della sicurezza in mare davanti alla costa fanese La nuova comandante, Maria Giovanna Trombetta, si è presentata con grande entusiasmo e spirito collaborativo Oggi assumo l'incarico di comandante del porto e capo del circondario marittimo di Fano Per me è un onore e sono orgogliosa di scoprire questa realtà Che mi ha fatto una bellissima impressione Una città accogliente che mi ha catturato dal primo minuto I primi incarichi sono sempre emozionanti Per chi intraprende una carriera ricca di responsabilità come la sua Cosa prova in questo momento? Non nascondo l'emozione, come ho detto durante il discorso Ovviamente il mio ruolo sarà quello di continuare nel solco tracciato dalla collega Il lavoro svolto dal comandante Battista è stato fondamentale Quindi io mi impegnerò con il mio equipaggio per continuare con quanto già portato avanti dalla collega Comandante, lei è la quarta donna che si avvicenda al comando del circomare di Fano Questo significa che la passione del mare è donna? Il mare è un bene che interessa a tutti senza distinzione di sesso, di cultura Il mare è un bene che deve essere tutelato e portato avanti per le future generazioni Quindi lei ha avuto questa passione fin da piccola? Fin da piccina, assolutamente sì Due importanti obiettivi per cui ha elaborato la comandante Battista È stata la sicurezza della navigazione e soprattutto anche la sicurezza dei bagnanti Ecco, proseguirà questo lavoro? Assolutamente sì, la sicurezza dei bagnanti e più in generale della navigazione È uno dei temi a cuore del corpo delle Capitanerie di Porto Che persegue gli obiettivi istituzionali senza mai dimenticarsi la tutela delle risorse ittiche e dell'ambiente marino Un commiato denso di commozione anche da parte del tenente di Vascello Stefania Battista Che è stata trasferita alla direzione marittima di Reggio Calabria Sì, molto emozionata perché oggi lascio il mio incarico di comandante dell'ufficio circondariale marittimo di Fano È un incarico davvero importante, molto impegnativo, che mi ha visto impegnata appunto qui per due anni Dove ho cercato di fare il meglio, di dare il meglio per la comunità fanese e la marineria fanese Il tutto sempre accompagnata e supportata da un fortissimo e preparatissimo equipaggio Andrà in Reggio Calabria la direzione marittima di quel capoluogo Quindi l'esperienza acquisita a Fano le servirà per il nuovo incarico? L'esperienza acquisita a Fano mi servirà non soltanto per il nuovo incarico ma per tutto il proseguo di carriera È come ho detto prima un incarico molto importante, un incarico che permette non solo di poter affrontare diverse tematiche Diverse problematiche che rientrano nei nostri compiti di istituto come Capitanere di Porto, Guardia Costiera Ma soprattutto mi ha permesso di avere il confronto diretto e la gestione del personale e dell'equipaggio Che è uno degli obiettivi più belli per un capo del circondario e comandante del porto Nuova riunione del Comitato Provinciale di Protezione Civile per valutare la situazione idrica nel Pesarese Nella prossima intervista facciamo il punto con l'assessore regionale Stefano Aguzzi Che è al lavoro per un nuovo potabilizzatore fuori Pesaro per risolvere il problema della crisi idrica una volta per tutte Sentiamo Dopo la decisione di riaprire i due pozzi di emergenza permane questo stato di crisi idrica Che cosa è emerso dalla riunione di ieri? Che cosa avete deciso? Pur con una sofferenza si è valutato che l'attuale apporto del Burano che non è neanche al massimo è di 240 litri al secondo dai 300 iniziali e mantenendo 150 litri al secondo il poto di Sant'Anna che buttano acqua nel fiume Metauro questo da qui ai giorni prossimi sappiamo che è sufficiente per mantenere l'afflusso necessario alla potabilità diciamo dell'acqua per i nostri acquedotti Questo da qui a quello che noi riusciamo a vedere avanti perché piogge non sono previste per lo meno da qui la prossima settimana non sono previste se il caldo perdura la situazione certo non migliorerà mercoledì prossimo ci sarà una nuova riunione il resto i consumi stanno calando i turisti sono diminuiti un pochino più fresco soprattutto la notte lo fa i consumi sono diminuiti secondo me sono molto fiducioso che quel timore anche di un possibile razionamento non ci sarà non sarà necessario Ecco Sessore però questa è un'emergenza che si ripete ogni anno non state pensando qualche progetto innovativo altre proposte era da tempo che occorreva pensare una qualche soluzione nessuno l'ho mai fatto si è parlato di grandi invasi ipotetici poi sempre contestati mai portati avanti ecco io come Assessore regionale a questo punto una decisione l'ho presa noi oggi capiamo prendiamo acqua dal fiume Metauro di conseguenza dalla diga del Furlo dalla diga di San Lazzaro a Fossombrone per Fano e per Pesaro d'estate se piove poco come adesso il fiume Metauro va in sofferenza intanto vanno ripuliti gli invasi che per 40 anni non sono stati mai ripuliti e noi siamo stati capaci di ottenere tutti i permessi per iniziare a ripulire quello del Furlo noi abbiamo una soluzione che è anche abbastanza semplice noi abbiamo un altro fiume in questa provincia che è il fiume Foglia ed è alimentato a monte da un invaso enorme quello di Sasso Corvaro la diga di Mercatale che ha 4 milioni di metri cubi di acqua contenente e ora ha già avuto dal mio assessorato 8 milioni di euro il lente gestore che è il consorzio di Bonifica per ripulirlo e ricavare un ulteriore milione di metri cubi di acqua da immagazzinare quindi un invaso da 5 milioni di metri cubi che è più di tutti gli invasi che sono lungo il fiume Metauro quello del Furlo, quello di San Lazzaro, quello di Tavernelle allora perché quell'acqua che viene rilasciata dalla diga del Mercatale e che va regolarmente in mare anche durante l'estate e ogni volta che piove non può invece essere captata, potabilizzata ed immessa nell'acquedotto di Pesaro come del resto noi facciamo qui dal Metauro? è una soluzione semplice, facile da gestire neanche troppo costosa perché occorrerà creare un nuovo potabilizzatore non è che costa poco, ci vorranno almeno 10 milioni di euro ma un nuovo invaso a monte oltre che molto più complicato nell'attività, nelle condutture, nel crearlo costerebbe 150 milioni di euro non si farà mai, o se si farà sarà tra 15 anni invece questa è una situazione già presente, già collaudata nel frattempo continueremo ad affrontare le situazioni come per 20 anni si è sempre fatto se si andrà in crisi, spero di no, anche il prossimo anno il Pozzo del Burano ancora c'è e sopperirà ulteriormente a questa situazione ma non può durare per sempre quindi questa che è stata una idea che io ho già lanciato in alcune sedi questa volta viene proprio imposta e indirizzata dalla regione con un atto deliberativo che porterò e poi farò subito una riunione con tutti gli antigestori di questa provincia con lato per iniziare effettivamente questo percorso è in funzione il primo dei due angiografi digitali per le procedure interventistiche installato nel reparto di cardiologia del presidio San Salvatore a Pesaro si tratta di una parecchiatura dal valore complessivo di circa 460 mila euro esclusi i lavori di adeguamento dei locali per 150 mila euro i nuovi strumenti sono dotati di grandi display con possibilità di visualizzare fino a 9 segnali su un unico monitor tutti i comandi sono integrati sul tavolo facilitando il lavoro degli operatori dal 2 settembre inizieranno le attività di smontaggio del secondo angiografo al fine di permettere entro fine novembre di avere un parco tecnologico completamente rinnovato e ora la politica dalla faccia a faccia tra Renzi e Ricci alle difficoltà della destra questi temi trattati da Stefano Bonaccini che ieri sera è stato nelle Marche in occasione della festa dell'unità a Pesaro e Vallefoglia vediamo il partito democratico non è mai stato unito come adesso sono le parole di Stefano Bonaccini pronunciate durante la tappa nelle Marche ieri l'europarlamentare presidente del PD ha preso parte alla festa dell'unità di Vallefoglia e poi qualche ora dopo all'evento regionale di Pesaro tanti i temi affrontati dall'autonomia differenziata all'Europa passando per l'attuale stato di salute del PD Bonaccini a Vallefoglia si è soffermato sul centrodestra definendolo in difficoltà su diverse questioni penso che la destra che ha un forte radicamento sociale e anche alle ultime europee comunque ha raggranellato poco meno della metà dei voti degli elettori del paese è una destra però in difficoltà la vedo io in difficoltà perché cominciano a esserci crepe su alcune questioni da ultima questa dello Iuscole più in generale dei bambini o delle bambine o dei ragazzi e ragazze stranieri che nascono qui quindi che dovrebbero essere velocemente italiani ma su altre questioni si apriranno fratture guardi quello che sta accadendo con l'autonomia differenziata rispetto a questa autonomia differenziata al sud con presidenti come occhiuto di Forza Italia nettamente contrari in Calabria e vedrà che se ne aggiungeranno altri Per il Partito Democratico la strada è tracciata l'obiettivo, dice Bonaccini, è costruire un fronte alternativo alla destra poi il presidente del PD ha commentato il faccia a faccia tra Matteo Renzi e Matteo Ricci sul palco a Baia Flaminia e si è detto d'accordo con il parere dell'ex sindaco di Pesaro Penso che serva, come ha detto Ricci, un accordo con il centro-sinistra classico e stenderlo al Movimento 5 Stelle ma serve anche chi rappresenta posizioni più moderate, di centro e quindi chi come Renzi o tanti altri ma poi a me dei leader interessa molto poco mi interessano i voti di milioni di persone è un punto di vista che secondo me può essere utile io sono un uomo di sinistra, mi definirò così tutta la vita ma in Italia ci sono milioni di persone che di sinistra non si definiranno mai dobbiamo evitare però che una parte di questi che con questa destra secondo me non ci vogliono andare non si sentano anche alternativi a noi Il capogruppo consigliare del Movimento 5 Stelle di Fano Francesco Panaroni ha presentato l'interrogazione sul parco urbano Luciano Polverari per chiedere al sindaco e alla giunta se hanno l'intenzione di completarlo infatti, ha precisato Panaroni, se ne parla da più di 30 anni nel corso di questi 10 anni di mandato seri si sono susseguiti annunci che tranquillizzavano i cittadini fanesi sulla realizzazione a breve è sconsolante invece vederne il degrado e l'abbandono inoltre si chiede lo stato dell'arte relativamente alla Casa del Custode alla pista ciclabile che collega il parco al quartiere Vallato e alla pista di Pump Track dove dopo la sistemazione della rete di recinzione il cantiere sembra abbandonato finanziato con 15 mila euro il progetto per commemorare e riscoprire la battaglia di Pozzo Alto oggi l'iniziativa è stata presentata in conferenza stampa dall'Unione dei Comuni Pian del Bruscolo si chiama la battaglia di Pozzo Alto, quota 204 il progetto dell'Unione dei Comuni Pian del Bruscolo per commemorare l'ottantesimo dello sfondamento e rendere il luogo in cui tutto è iniziato riguardo alla liberazione dai nazi fascisti un punto di memoria indelebile e fruibile dal punto di vista diciamo culturale di conoscenza delle scuole e anche dal punto di vista turistico perché molti vengono da Mezzomondo per verificare i drammatici fatti e ahimè anche i loro figli, i defunti che ci sono stati, penso citando due cimiteri importanti il cimitero di Montecchio e quello di Gabice Gradara degli inglesi, canadesi e i morti di Mezzomondo Storici e associazioni hanno collaborato per tracciare la presenza dei bunker sul territorio che va da Montecchio a Pesaro passando da Borgo Santa Maria, Pozzo Alto e Case Bruciate L'iniziativa punta allo stombamento dei bunker ma anche a realizzare un portale dedicato alla storia e al percorso in cui si trovano i siti di interesse verrà organizzato poi un convegno specifico sulle vicende di quei giorni in programma anche una rassegna legata alla memoria della Seconda Guerra Mondiale inoltre durante il 2024 verrà prodotto un libro con l'evento di commemorazione il 30 e 31 agosto a Borgo Santa Maria, luogo dove è avvenuto lo sfondamento Grazie all'impegno dell'Unione dei Comuni Pian del Bruscolo e alla sinergia con Hauser e il Circolo Pozzo d'Argento è stata presentata la domanda alla Regione Marche per la concessione di contributi Il progetto è stato finanziato con il maggior punteggio e con un contributo di 15 mila euro su un progetto di circa 25 mila euro È molto importante, questo è l'avvio di un finanziamento di 25 mila euro per ricordare se ce ne fosse bisogno dato che continuiamo a fare le guerre in giro per il mondo che le guerre portano fame, miseria, distruzione e tanti, tanti, ahimè, morti quindi bisogna che soprattutto le scuole studiano cosa è successo lungo la linea gotica per evitare che si ripetano fatti di questo genere In Francia è molto famoso come attore e protagonista di una delle più popolari serie tv che va in onda da dieci anni si tratta di Plus Bella V è il fanese Emanuele Giorgi che ha fatto l'attore a Roma per poi trasferirsi a Parigi dove ha conosciuto il successo Fano però non l'ha mai dimenticata e proprio in questi giorni girerà un film nella città della fortuna in cui reciteranno anche improvvisati attori fanesi come il preside San Uele Giombi e il professor Pino Panaioli Emanuele Giorgi si dice che nemo profeta in patria però insomma anche se uno non è conosciuto nella sua città natale può avere fortuna anche in altre città e in altre nazioni soprattutto tu hai avuto fortuna in Francia dici qualcosa della tua carriera Allora sì, nemo profeta in patria Massimo di fatto è stata l'ultima frase che mio padre mi ha dato come benedizione prima di lasciare l'Italia e sì, di fatto io sono un attore da più di 25 anni ho lavorato molto a Roma e poi a 30 anni ho deciso di valicare le frontiere sono andato a Parigi e a Parigi senza cercarlo particolarmente ho trovato, ammetto, un grande successo con un media che non ho a casa non ho televisione una televisione a casa però sono diventato sì una star della televisione nella serie più seguita francese che si chiama Plus Belle et Vie e oggi sto cercando di diventare un po' alla volta di realizzare i miei propri progetti ed è per questo che presento oggi un progetto Caire Rallegrati una sorta di, una specie di pilota di un cortometraggio che poi mi piacerebbe girare integralmente in seguito Girerai domani, dopodomani nella nostra città a Fano Caire è un saluto che i pescatori i marinai antichi dell'antica Grecia rivolgevano appunto a chi e perché ma diciamo appunto è un saluto universale fra tutti i marinai persi nella tempesta tutti i viandanti o le persone che affrontano la propria tempesta interna o una vera e propria tempesta che ripeto è molto attuale oggi del resto certo lui è un naufrago di lusso perché fa parte di un mondo diverso rispetto alle situazioni drammatiche che seguiamo oggi non è un film con uno scopo sociale anche se si parla di questa crisi però è un film spero universale perché si parla della propria crisi interna come fare emergere tutta l'oscurità che in fondo a noi per andare verso la luce concretamente e questo è un percorso che il nostro personaggio fa semplicemente cercando di rifare la propria carta di identità ritorna appunto a Fano nella propria città dopo anni di assenza e appunto in tutto ciò incontrerà dei personaggi grotteschi delle situazioni surrealiste chissà se alla fine ritroverà la propria voce che ha perso in parte durante il viaggio il proprio nome le proprie radici e chissà se alla fine sarà capace di riguardare questa nuova foto questa foto tessera in cui vedrà quello che è diventato chissà si accetterà questa nuova immagine di sé ibrida questo lo sapremo una volta che tutto il corto sarà terminato dal 2 all'8 settembre sarà il comune di Macerata a Feltria insieme a Frontone il nuovo protagonista di 50 per 50 capitali al quadrato il progetto simbolo di Pesaro 2024 che vede 50 comuni della provincia di Pesaro e Urbino a turno capitale per una settimana lungo tutto il 2024 il programma offre una ricca proposta tra conferenze visite guidate musei aperti tutta la settimana archeologia musica presentazioni editoriali laboratori di teatro per i più piccoli ma anche parate in costume d'epoca e cavalleria il programma completo lo trovate anche sul nostro sito occhioallanotizia.it e adesso lo sport con la nuova collaborazione tra la giovane Sant'Orso Asi di Pesaro Urbino e Etica Center per la formazione e lo sviluppo di nuovi progetti le tre realtà hanno infatti deciso di unire le forze per dare forma a una serie di iniziative all'insegna del movimento e del sano agonismo nello specifico Asi metterà in campo le sue conoscenze attraverso iniziative che si svilupperanno nel periodo invernale ed estivo Etica Center invece metterà a disposizione diverse figure che consentiranno alla giovane Sant'Orso di fare un salto di qualità su diversi fronti tra queste anche il direttore di Etica lo psicoterapeuta psicologo dello sport e formatore Semmi Marcantonini insieme a lui anche altre figure professionali che organizzeranno delle attività in campo con allenatore e il suo gruppo è un nutrizionista che periodicamente si occuperà della formazione di ragazzi e famiglie sui principi di una sana alimentazione e dopo di noi andrà in onda un approfondimento con Massimo Agostini sulla Pinacoteca San Domenico di Fano e su alcuni affreschi e dipinti in essa conservati dopo di noi le previsioni del tempo termina qui il telegiornale grazie per averci seguito e buona serata Grazie a tutti